Almeno fatti salutare, è bene. Ah, tu bruci le tappe. A me mi brucia vederti non poterti baciare. Eh, ma prima del bacio devi scoccare la scintilla. Mi sto prendendo fuoco, proprio qua, 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 qua. Qua c'è lo stomaco e secondo me ti brucia perché hai mangiato la brioche col burro. No, lo stomaco sei chiuso, ma si sta prendendo il cuore. E sta dicendo di parla, ma non mi vuoi sentire. Mi sa che non capisco il napoletano. Ti insegno. E come si dice, ma che intenzioni hai? Ma fammi capire. Queste cose non si fanno all'improvviso. All'intrasatta? Vabbè, ti saluto come si fa da queste parti, con tre bacini. Magari. E io ti saluto alla napoletana. Uno bacio, ma buona. Ok, non vale, questo è rubato.